ciao ragazzi ciao ma com'è andata questa settimana beh sarà impegnativa ma è andata bene siamo portata a casa si è stata bella pesante però l'abbiamo ficcata sul finire della sirena ma questa settimana abbiamo fatto il live sicuramente era un brano ricercato di nicchia sports dei viagra boys che abbiamo interpretato insomma nel nostro modo siamo riusciti a passare il turno come si dice a disturbare anche sicuramente disturbare e niente andiamo al prossimo live si non siamo nemmeno finiti in ballottaggio e per questo ringraziamo soprattutto chi ci ha votato grazie siete stati tantissimi e bellissimi quindi niente si ringraziamo soprattutto chi ci ha votato e ci ha permesso di passare il turno il brano comunque abbiamo suonato bene sicuramente è arrivato era un brano nemmeno troppo difficile a livello musicale però era importante farlo bene la scena tutta costruita su quello che era il testo e noi abbiamo suonato vestiti da tennista da sub e in modo ciclista come com'era state nel casco lorenzo racconta suonare col casco sicuramente è stata una delle esibizioni più difficili della mia esistenza io parecchie volte mi sono travestito nel suonare ho suonato parecchie volte scomodo per per intrattenere insomma ma questa volta è stata forse la volta proprio più difficile perché comunque avevo il casco io sono abituato molto a muovermi quando suona e avevo il casco e avevo molta difficoltà dovevo rimanere fermo però alla fine ho scapucciato lo stesso e mi è venuto il torcicollo il giorno dopo. Hai fatto pure la sauna da dentro tra l'altro sì anche ma tanto sudare se sei un batterista è normale come respirare. E Zub invece che dice? io avrò perso due chili solo a sudore avevo anche una maschera tenuta bella stretta in testa che mi ha lasciato il segno per due giorni e è sparito tipo ieri notte le pinne difficilissimo premere i pedali con le pinne però ci sono riuscito sono fiero molto fiero di me anche il Wemmy il Wemmy con la pinna però è bello perché cioè si vede cavolo è scenico il movimento del sì sì è stato Manuel mi ha complicato un po' la vita però molto divertente siamo divertiti sì suonare al tennista è stato molto semplice devo dire anzi ero abbastanza sciolto pure perché i pantaloncini aiutavano i short shorts sì che si vedano i peli pure si vedano i peli ho dimenticato di farmeli purtroppo e poi niente che cosa abbiamo fatto anche di bello? beh sicuramente abbiamo passato tutta la settimana con il nostro roster che ancora è al completo quindi ringraziamo tutti quelli che hanno votato tutti quelli del nostro roster perché ancora siamo insieme anche tu anche te perché è bello comunque stare con il bengala aereo ci divertiamo insieme non che non ci divertissimo insomma con anche con gli altri ma con loro particolarmente stasera ce ne sono insieme esatto sì mangiamo tante buone cose e quindi ci godiamo ancora una settimana insieme e vediamo come andrà giovedì prossimo Manuel ci ha assegnato un bel pezzo è Gigantic dei Pixies loro sono i precursori del grunge del rock sono un grande gruppo e noi siamo contenti e noi siamo contentissimi di suonare questo brano che abbiamo riarrangiato alla nostra maniera con il nostro sound e sicuramente come ha detto Manuel è un brano che ha la forma canzone e una melodia precisa al contrario di closer che abbastanza pesante anche a livello di tematica e storto e sports che sicuramente è più che altro un brano figo sintetico duro divertente anche per come è stata messa la messa in scena cioè Gigantic parla di amore e anche un altro significato nascosto diciamo che non trapela così tanto nel testo e siamo curiosi ancora di vedere come verrà lavorata la messa in scena perché ancora stiamo diciamo ecco decidendo parlando come reagirà anche il pubblico da casa nel vederci in questa nuova chiave come reagiranno l'acce shake che già avranno programmato tutto e noi andiamo a togliere castagne dal fuoco esatto sì quindi ci aspetta una settimana intensa speriamo che il mio maglione di Natale porti fortuna perché ha portato fortuna giovedì con il naso ha portato fortuna la puntata del giovedì scorso noi vi salutiamo seguiteci sui social mi raccomando votateci e speriamo di portare ancora il rock in alto perché suonare il brano dei Pixis sarà un onore ancora una volta dopo aver suonato i Nine Inch Nails ad X Factor e ci salutiamo ragazzi buon fine settimana ciao 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 alla prossima